pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici ciao stai ascoltando pct facile primo podcast per avvocati tecnologici io sono francesco posati e ti do il benvenuto alla puntata numero 25 era da un po di tempo che non iniziavo con il ringraziare te che mi segui dalla prima ora i feedback sono sempre importanti se invece sei un nuovo ascoltatore puoi ascoltare le precedenti puntate su suncloud su spreaker e su itunes oppure collegandoti al sito avvocato tecnologico punti o al canale telegram pct facile a tutti è aperta la possibilità di essere produttori esecutivi del podcast collegandoti alla pagina paypal.me e lasciando un'offerta libera sarete citati alla chiusura della puntata successiva iniziamo fin dall'inizio l'idea del podcast pct facile è stata quella di raccontare le evoluzioni in bit degli avvocati di fronte al processo telematico e al mondo digitale perché stiamo vivendo anche un ricambio generazionale che impone nuove modalità di relazione oggi parlerò di loro i nostri futuri clienti il millennials o generazioni y i ragazzi nati tra i primi anni 80 e i primi anni 2000 che nel giro di breve tempo hanno visto la tecnologia fare passi da gigante il digitale ha impattato sulla loro vita e sul modo di vedere le cose come li descrive silva randa in un posto del 27 marzo 2016 pubblicato su hoffington post.it sono i figli di un'italia sempre in crisi con il tormentone del posto fisso nelle orecchie e nostalgici di un'epoca che non hanno mai vissuto dello splendore economico di una vita ai loro occhi più semplici dove il futuro quello lavorativo almeno appariva già tracciato nel momento in cui si iniziava l'università è difficile secondo silvia randa per questa generazione fare progetto a lungo termine ma è un'incertezza che permette anche di reinventarsi di non sentirsi incastrati in dinamiche che potrebbero star strette i millennials stanno già influenzando profondamente il mondo del lavoro e guidano la trasformazione digitale nel mondo lo vediamo ogni giorno questa generazione impone nuove abitudini e nuove modalità di relazione così forti e radicali con i fornitori di servizi compresi professionisti legali le abitudini dei millennials così diverse dai loro genitori sono stati oggetto di una ricerca nel settore bancario e finanziario commissionata da kamai all'istituto taylor nelson sofres fonte di questa nuova puntana scopriamo insieme i tratti distintivi di questa generazione y i millennials sono la futura generazione di leader della business community nel mondo i millenials sono circa due miliardi e mezzo un terzo della popolazione sono i principali utenti di smartphone e social media le proiezioni indicano che la generazione y erediterà almeno 41 miliardi di dollari entro la metà del secolo si stanno affermando come soggetti economici di primo rilievo occupando posizioni di comando nelle imprese negli ultimi due anni infatti c'è stato un notevole ricambio al vertice delle aziende italiane e una nuova generazione di under 40 occupa sempre più posti di comando nelle aziende nel 2016 i primi millenials compiranno 33 anni e inizieranno a incidere nelle scelte aziendali i millenials sono allenati alla velocità e alla immediatezza sono consumatori nati in un mondo iperconnesso l'86 per cento dei casi è cresciuto con ogni tipo di tecnologia a portata di mano e uno su cinque di loro usa solo lo smartphone o il tablet per collegarsi ad internet sono utenti con altissime aspettative di servizio quando comprano lo fanno prevalentemente su internet sono abituati a mettere in gara i fornitori e entrare in gara con altri hanno iniziato ad acquistare quando negli stati uniti veniva lanciato ebay i millenials ricercano anche tanta affidabilità sicurezza ed etica sono molto più esigenti dei genitori e il 25 per cento di questa generazione è addirittura disposta a bocottare un'azienda o un professionista già alla prima esperienza negativa l'aspetto da considerare tuttavia è che quando invece l'esperienza è positiva costruiscono una relazione con il brand e ne divengono fedeli sostenitori e promotori i millenials desiderano che il business sia focalizzato più sulle persone sui clienti e sulla comunità in cui operano più che sul profitto di fronte a una scelta professionale oltre il 50 per cento si fa influenzare dai propri valori tante informazioni e opinione prima di qualsiasi scelta i millenials quando decidono un acquisto si affidano al digitale usano strumenti di comparazione per scegliere un prodotto un servizio finanziario assicurativo e legale o il ristorante per andare a cena con gli amici si confrontano con altri utenti che considerano affidabili vogliono informazioni immediate e trasparenti dal professionista il brand non è più sufficiente ad assicurare una vendita sono abituate a ricercare su internet informazioni sul prodotto o servizio che stanno acquistando trip advisor è nato quando i primi millenials raggiungevano la maggiore età stai ascoltando pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici la vera sfida sta nell'identificare e fare il miglior uso possibile delle tecnologie che costruiscono relazioni ma che alla fine si ripagano in termini di maggiori tassi di fedeltà fatturati e in ultima analisi maggior customer lifetime value i professionisti e le imprese devono capire imparare come relazionarsi con questi potenziali clienti perché la posta in gioco è alta e mancare l'appuntamento significa uscire dal mercato chi sarà in grado di trovare la chiave giusta potrà contare su clienti fedeli a vita clienti che saranno i maggiori promotori del tuo personal brand innovazione nel settore fattore chiave per attirare i clienti della generazione y è particolarmente difficile a causa dei costi necessari per garantire la compliance normativa sempre più complessa nonché dell'infrastruttura senescente a cui molti studi legali poggiano ancora la gestione della propria attività per gli avvocati tecnologici i millenials sono la sfida che si vince anche con una maggiore attenzione alla sicurezza alla semplicità d'uso e alla qualità del servizio anche dal punto di vista tecnologico gli avvocati devono intraprendere una trasformazione digitale puntando sul cambiamento delle relazioni con i clienti e della loro esperienza sulla ridefinizione delle proposte di valore e sull'ottimizzazione dei modelli dei processi di business dobbiamo sviluppare una cultura digitale se non siamo al 100 per cento in linea con i clienti rischiamo di perdere quote di mercato a favore di concorrenti più aperti e organizzati che hanno favorito una delivery di user experience che soddisfa il cliente allora quali sono i percorsi da intraprendere gaia franceri poce fondatrice di mopi in mag legal community del 21 marzo del 2016 ci offre alcuni consigli prima di tutto costruisci una credibilità online curare un proprio sito i propri suoi profili social link di facebook twitter il tuo nome sarà googleato ricercato su google per ottenere e verificare le informazioni che hai fornito sarai sempre confrontato con i tuoi concorrenti tramite informazioni reperite su internet ricordati che google è nato nel 1998 e che per un millennial esiste da sempre non adagiarti sugli allori per la tua posizione dominante sul territorio e per la tua storia professionale il web supera queste barriere i millennials non sono fedeli alla marca continuano a mettere alla prova lo studio legale scelto sono corsiuti nella concorrenza sul lavoro e nella mobilità amazon è nato nel 1994 ed è il natural benchmark utilizzato per testare il prezzo dei prodotti allo stesso modo i millennials testeranno la qualità del servizio da te offerto i termini avvocato di fiducia o studio di riferimento spariranno i valori sono importanti cerca di trasmettere i valori del tuo lavoro all'esterno e sarei apprezzato le nuove generazioni sono molto attenta alle tematiche sull'ambiente e sull'etica negli affari il modello non è più gordon ghecco che affermava che le naro non dorme mai ma mark zugenberg che dichiara di voler destinare il 99 per cento delle azioni facebook per scopi filantropici termino qui questa puntata aspetto i tuoi feedback fammi sapere la tua opinione ti ricordo che vediamo il futuro digitale al prossimo appuntamento ciao segui pct facile su avvocato tecnologico punto it su tumblr e su telegram contatta l'autore francesco posati per idee suggerimenti richieste su about punto mi slash f posati o scrivi a mi chiocciola francesco posati punto it sostieni il podcast tramite paypal punto mi slash f posati